per tutta la durata del viaggio verso napoli agata fu costretta a concedere a virgilio così come le aveva promesso l'uso esclusivo dello stereo e la relativa selezione musicale ma dico io un'alternativa a questi rapper che fanno sta musica che è sempre uguale sempre la stessa cantilena ecco ste parole che non si capisce che cacchio dicono proprio non si può trovare non pretendo di sentire la musica che piace a me ma almeno troviamo un compromesso una via di mezzo virgilio ignorò seraficamente le parole della mamma aumentando per tutta risposta il volume già assordante dello stereo dell'auto nell'abitacolo vabbè ho capito però prima che arriviamo a napoli me lo fai mettere un cd che piace a me che dici non è che posso fare tutto il viaggio con sto fabio fibbia nelle orecchie com'è che si chiama dio santo mamma fabri fibra che fabio fibbia sei proprio inceppata sei e vabbè oh ormai vado per il 40 un po di comprensione no erano partiti di buon'ora di sabato mattina agata aveva preferito viaggiare con la sua auto sebbene il treno fosse molto più comodo ma la macchina le assicurava quella autonomia di movimento di cui avrebbe avuto certamente bisogno in quei giorni a napoli più che l'insofferenza per la musica rap che ostentava per il solo sfizio di punzecchiare suo figlio era il dilemma che le si prospettava davanti ad occupare la sua mente mentre il tappeto d'asfalto arroventato della milano napoli che d'estate doveva chiamarsi autostrada del soleone più che del sole si srotolava monotono e dio benedica per davvero chi inventò l'aria condizionata non che propriamente la angustiasse quel dilemma però certo le dava da pensare una decisione di fatto lei l'aveva già presa l'idea di rivelare a mattia che si accingeva ad incontrare di lì a poco tempo che era il padre di suo figlio le sembrava assurda sebbene fosse consapevole che quella fosse l'ultima occasione possibile per risolvere ed affrontare un nodo cruciale della sua vita o meglio della vita di suo figlio l'assenza di un padre e nonostante avesse considerato quali e quanti altri benefici vi fossero in un eventuale riconoscimento di paternità di mattia sul futuro di virgilio non ultimo ad esempio per quanto le ripugnasse anche il solo pensiero la solidità economica che ne sarebbe discesa ma al di là di quella infatuazione tenace che l'aveva spinta a vivere quella avventura gravida aggettivo quanto mai appropriato di conseguenze che cosa poteva sapere realmente di lui per un lato si diceva tutte le qualità morali che la colpirono 16 anni prima non potevano certo essersi dissolte né era ipotizzabile che quello spessore umano così rimarchevole che l'aveva affolgorata quando era studentessa si fosse trasformato in qualche cosa d'altro sarebbe stato di certo un padre di cui virgilio avrebbe potuto essere orgoglioso ma come spiegargli la scelta fatta di aver taciuto per tanti anni di aver voluto coprire con una impenetrabile coltre di riservo quella storia e soprattutto quali conseguenze avrebbe potuto avere sulla sua psiche in una fase così delicata della sua vita del suo trasformarsi da ragazzo in uomo quanto le era costato tirar su quel figlio sacrificandosi in mille modi per compensare l'assenza di un padre e proprio adesso che buona parte di quell'opera era stata compiuta quale sarebbe stato il senso di mettere a repentaglio quell'equilibrio frutto di uno sforzo tanto certosino e in ultimo sarebbe stato giusto sconvolgere la vita di un uomo ancora brillante e di successo ma ormai ad un passo dalla vecchiaia per appagare un bisogno tutto sommato egoistico troppi erano gli argomenti che avevano fatto pendere completamente da un lato la bilancia l'idea di questo svelamento tardivo le pareva per troppi motivi improbida e affatto sensata per cui l'ipotesi romantica che pure aveva solleticato la sua fantasia di una rivelazione sorprendente con tanto di effetti speciali di una stupefacente agnizione per virginio e per mattia l'aveva accantonata senza ripensamenti oh mamma ma quello lì sulla sinistra è il vesuvio siamo vicini eh sì ci siamo quasi lo senti anche tu il magnetismo del vulcano il magnetismo sì il magnetismo l'effetto del magma che ribolle nelle viscere del vulcano è da quello che dipende il carattere estremo esagerato esuberante dei napoletani anche di mamma tua e tutto sommato anche il tuo sei nato in padania ma nelle tue vene scorre sangue partenopeo al cento per cento non dimenticarlo mai è quasi ora di pranzo siamo in perfetto orario per le polpette della nonna quasi ma se è luna passata piccerì qui siamo a napoli qui il sabato e la domenica se ti metti a tavola prima delle due o sei malato o sei uno sfigato virgilio arrivò a casa della nonna con una fame che era data dal prodotto della tipica voracità dei maschi sedicenni moltiplicata per l'aspettativa che aveva per i succulenti manicaretti di nonna erminia non assaggiava la sua leggendaria cucina da moltissimi anni ma aservava ricordi fanciulleschi di prelibatezze squisite e di sapori che avevano lasciato il segno la non nutritissima famiglia era al completo nonna erminia con mario e la zia barbara con il marito marittimo e di loro due figli due maschi di 12 e 14 anni l'orario tardo non rappresentò un ostacolo alla amorevole cerimonia dei saluti familiari che si protrasse a lungo tra gridolini di giubilo a bracci commossi e una interminabile sequenza di madonna come ti sei fatto grande che bello che sei che coinvolse ripetutamente e a turno tutti e tre i cuginetti come dio volle quasi alle tre del pomeriggio cominciò il pantagruelico banchetto della nonna che terminò più o meno all'orario in cui erano abituati a cenare a collecchio virgilio abituato agli orari codificati nella sua ingenuità spiccatamente padana chiese alla mamma se a quel punto dovessero anche cenare e tutti scoppiarono in una gran risata agata si allontanò un attimo per digitare il suo messaggio a mattia su whatsapp buonasera mattia domani verrò io a napoli in cumana non mi pareva il caso di farti venire fin qui a bacoli anche perché qui ci sarà la folla dei bagnanti domenicali sarò al centro già in mattinata fammi sapere quando ti fa comodo incontrarci squillò il telefono e sul display comparve il suo numero e il suo nome ti disturbo ma no che disturbo bentornata a napoli grazie sono davvero felice di essere qui senti se ti va domani posso far riservare un tavolo a mare chiaro ho un amico ristoratore lui non mi dice mai di no anche se è pienissimo un tavolo per due me lo trova è l'unica possibilità che abbiamo di pranzare perché qui la domenica è pieno dappertutto altrimenti ci tocca arrangiarci per strada beh per me non sarebbe un problema ma visto che c'è la possibilità di pranzare a mare chiaro sarei davvero una sciocca se non ne approfittassi bene allora fammi tu uno squillo o mandami un messaggio e passa a prenderti passarono la serata a passeggiare con tutta la famiglia sul lungo lago nella villa comunale agata chiese subito alla sorella di alcune amiche della sua adolescenza che non aveva più sentito da allora barbara gli disse che nessuna di loro era rimasta ad abitare a bacoli che io sappia claudia vive a napoli al vomero ha sposato uno che fa il costruttore anna maria e marina sono sicuramente al nord sono andate via dopo la laurea e luisa te la ricordi luisa sputazzella sputazzella ma come sputazzella quella che quando parlava sputacchiava sempre tutti i ragazzi quando la vedevano se ne scappavano ah sì come no sì me la ricordo quella che si faceva le treccine ma do quante grezze che mi ha fatto fare anche lei è andata via da bacoli boh non l'ho più vista me l'ero completamente dimenticata le fece un resoconto sintetico di tutti quelli che erano ancora a portata di mano essendo rimasti a vivere in paese amici parenti più o meno larghi conoscenti risero di gusto ricordando episodi lontani e sfottendo ora questo ora quello ritrovarono quella complicità sorellesca che avevano smarrito da un po virgilio si prestò docilmente agli slanci di affetto di quella nonna ancora giovane che moriva dalla voglia di entrare in intimità reale fisica con quel nipote che per mesi e mesi aveva visto soltanto dal freddo schermo di un cellulare ora lo aveva lì in carne ed ossa e ogni tanto cercava il contatto con lui avrebbe voluto sbaciucchiarlo di continuo ma si limitò a prenderlo sotto braccio o ad appendergli si giocosamente al collo alto com'era almeno 20 centimetri più di lei agata moriva dalla voglia di rivedere quei posti ogni angolo di quel paesaggio era marchiato a fuoco nel suo cuore si stupì di come fosse cambiato l'aspetto di alcune cose le facciate dei palazzi le panchine i pali della luce la ringhiera che corre sul margine del lago tutte cose che nel suo personale immaginario costellato di ricordi avrebbero dovuto essere immutabili durare in eterno poi volle andare sulla spiaggia di miseno era quello più di ogni altro il luogo del suo cuore si tolse le scarpe e corse verso la spiaggia saltando a pieppari nell'acqua come una bambina nel mare nel suo mare nel mare della sua infanzia era felice come era stata lì da bambina quella bambina che tutti compativano e lei non si capacitava del perché prima di tornare a casa virgilio pretese il gelato che mario il compagno della nonna volle offrire a tutti tornavano verso casa gustando con volutà il cono della migliore gelateria di bacoli costeggiando nuovamente il lago nella villa quando improvvisamente agata si incurvò nelle spalle nascondendo il viso e tirando violentemente a sé per un braccio la sorella non mi far vedere non mi far vedere per carità coprimi oh aga ma che cazzo ti piglia sei pazza ma hai visto chi ci sta là chi c'è ma come chi guarda non fartene accorgere oh guarda là ma dò sputazzella è proprio lei senza le trecce però ma è tale quale se mi avesse riconosciuto per salutarmi di sicuro mi avrebbe innaffiato il gelato di saliva e pure la faccia niente di meno io non la vedevo più da dieci anni questa aspettava che tornassi tu qua per ricomparire cose dell'altro mondo magari sarà passata a trovare anche lei i genitori chissà si salutarono sotto casa di arminia sganasciandosi ancora dalle risate per le antiche gesta di luisa sputazzella la nonna aveva preparato per la figlia ed il nipote la stanza che era stata quella di agata e barbara era sempre così quando tornava ma adesso mancava davvero da tanti anni e comunque ogni volta era sempre per lei una grande emozione sollevò il copertino leggero ed osservò le lenzuola erano ancora quelle di cui si ricordava degli ultimi anni a casa della mamma risentì il profumo di quel bucato era uguale a quello di un tempo e si commosse per questo stupido particolare quando prese sonno era così felice ed appagata che quasi dimenticò quale importante incontro la attendessi all'indomani iscriviti al canale